Amazon è uno dei più grandi colossi del commercio online. Fondata nel 1994 dall'imprenditore statunitense Jeff Bezos, Amazon oggi vanta all'interno del suo negozio virtuale più di un milione di prodotti, tra i più disparati. C'è una particolarità che rende speciale questo negozio. Si chiama Amazon Prime. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Amazon Prime è un servizio in abbonamento che consiglio caldamente a tutti gli utilizzatori di Amazon. Ma come funziona e soprattutto a cosa serve esattamente? Partiamo subito dal costo, che credo sia la cosa fondamentale. Amazon Prime costa 19,90€ e si paga su base annua. Una volta che vi sarete abbonati vi si aprirà un mondo di vantaggi. Il primo, ovvero quello per cui è stato creato, è la spedizione super rapida e gratuita. Tutti i prodotti che riportano la dicitura Amazon Prime potranno sfruttare la spedizione in un giorno lavorativo o al massimo due. Ciò dipende ovviamente dal comune in cui abitate. Coloro che vivono a Milano potranno invece approfittare anche di Amazon Prime Now, un servizio di consegna flash entro due ore dall'ordine. Il servizio non è valido su tutto il catalogo Amazon, ma solo su una selezione di 20.000 prodotti, tra cui figurano moltissimi generi alimentari. Se vi manca il latte oppure vi si sono scaricate le batterie del telecomando, sapete già dove ordinarle. Il servizio è gratuito se siete disposti ad attendere due ore. Se invece volete ricevere l'ordine entro un'ora, dovrete pagare 6,90€ per la consegna. Il vostro abbonamento a Amazon Prime però vale molto più dei 19,90€ spesi annualmente. Già, perché sottoscrivendolo avrete accesso anche a Prime Video, un servizio dedicato allo streaming di film e serie TV, accessibile da smartphone, tablet e smart TV. Con Prime Video, per esempio, potrete godervi gratuitamente una moltitudine di telefilm esclusivi, come The Man in the High Castle oppure Mozart in the Jungle. Questi sono solo alcuni dei vantaggi offerti dal servizio Amazon Prime. Io vi consiglio di sottoscriverlo, anche perché, shh, non ditelo a nessuno, ma nel resto del mondo costa all'incirca 70€ all'anno. Direi che anche per oggi è tutto, mi sono però accorta che mi manca il latte. Vado subito a comprarlo su Amazon. Voi intanto visitate il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche e non... Ciao!